Ah, Parmareggio, v'è la mia marca preferita! Venite, vi svelo il segreto di un grande intenditore! Wow, papà! Il grattugiato Parmareggio! Dal cuore di Parmareggio nasce un grande parmigiano grattugiato! Tutto il sapore del parmigiano pronto per essere servito! E con Parmareggio trasforma ogni piatto in un capolavoro! Classico e stagionato 30 mesi per veri intenditori! Grazie a tutti!